Manca poco all'inizio dei lavori nel porto canale di Fiumicino. Parola di Domenico Parente, il delegato alla sicurezza del comune, che per primo si è interessato al problema. Il responsabile tecnico mi ha inviato un'informativa con tutto ciò che sarà fatto, assicura Parente in una nota. Si tratta in totale di sei interventi. Sostituzione degli angolari in ferro zincato dislocati lungo la banchina del molo nord, ripristino dei cigli di fronte la capitaneria di porto, messa in sicurezza della parte del molo sud dove poggiano blocchi di granito pericolanti, ricostruzione del pennello est della Darsena, risanamento del tombino presso il cantiere Aymar e rifacimento delle aree della banchina nord che si allagano quando piove. Quasi tutti i lavori partiranno la prossima settimana, massimo inizi di marzo. Ringrazio personalmente l'ingegner D'Alesio per la tempestività e l'operatività dimostrata e conclude Parente. Sarà mia cura aggiornare in tempo reale la cittadinanza sull'avanzamento del programma.